buongiorno ma voi lo vorreste ancora di balla juve no lo voglio far scoppiare delle bombe ragazzi lo sapete come sono fatto io lo sapete come sono fatto io anche se si è letto in questo periodo qua tra indiscrezioni suggestioni invenzioni se ne sentono di tutti coloro i colori da coloro i quali ovviamente perché dovevo agganciare in qualche modo sopperire all'errore commesso da colori quali amano diffondere voci amano fare cassetta amano avere views follower ascolti e quant'altro io credo che si tratti veramente di una butanade come come le definisco in questi casi anche se voi sapete quella penso io pensate che l'anno scorso io mi sentivo dare dell'odia non odiatori diciamo ero definito come uno di quelli che non voleva che di bala rimanesse criticavo di bala secondo alcuni io ho sempre detto che a le sue lacrime erano sincere b che le due perdevano un giocatore di grande talento adesso ci aggiungo un c se proprio dovessi esprimere il mio parere su questa appunto vicenda molto più aleatoria che reale o realistica direi che di bala me lo riprendere indietro il di bala visto quest'anno con dei rendimenti sicuramente all'altezza soprattutto con una tenuta fisica diversa da quella degli anni passati è vero ha avuto che quest'anno acciacchi infortuni ma ormai è così si sa questa dimostrazione del fatto che quando uno cronicamente ha salito da infortuni difficilmente se ne libera del tutto del tutto però quest'anno gli effetti si sono attenuati io di bala di quest'anno me lo sarei ripreso me lo riprenderebbe detto questo ripeto secondo me ci sono 0,05 probabilità su 100 0,9 probabilità su 100 che di bala possa tornare il ventus c'è una clausola recessoria di 12 milioni per l'estero di 20 per le squadre italiane da esercitare entro il 31 di luglio io in questo caso vi dico non ci credo finché non lo vedo stop e la chiudo qua a proposito di cronicità di infortuni eccetera eccetera ha ripreso lavorare Pogba assieme a Fagioli e qua si tratta di un'opera di completamento di un lavoro iniziato la scorsa questa estate scusatemi avete visto anche attraverso i suoi social lui ha lavorato parecchio a Miami naturalmente adesso dovrà sfruttare questa settimana di lavoro individuale assieme a Fagioli per provare a fare cosa? Per provare a portarsi a pari con i compagni perché Pogba era finito sotto zero ampiamente sotto zero se non avesse seguito la tabella ferrea quest'estate non avrebbe mai potuto più diciamo colmare il gap nei confronti dei compagni quindi per essere a zero deve lavorare così ha ancora una settimana di tempo e poi si presenterà per i test assieme agli altri compagni che via via rientreranno dalle vacanze estive da lì si potrà valutare l'esistenza o meno di un nuovo Pogba o meglio un ripristino del Pogba quante cioè prima che si facesse balle al menisco e qua torna in ballo lo stesso discorso di prima cioè quello relativo alla cronicità degli infortuni che naturalmente si spera sia inferiore e anche come entità rieccomi perdonate l'immancabile interruzione che ormai accompagna parecchi dei miei video non dico tutti ma siamo lì no parlavamo di Pogba diciamo appunto della speranza che il giocatore possa avere una certa continuità lo dico sempre in primis per lui e poi naturalmente per tutto il resto cioè per la Juve per i tifosi per l'ambiente eccetera eccetera anche se ragazzi le offerte a Pogba dall'Arabia Saudita sono arrivate o comunque qualche voce gli è arrivata la Juve è un periodo che ascolta tutti nessuno è incedibile la Juve ascolta tutti quindi queste voci le ha ascoltate dopodiché non è che può pretendere di convincere Pogba ad andare è una cessione di contratto perché Pogba è sotto contratto e quindi se Pogba dice si impunta e dice voglio restare resta e non ci sono non ci sono santi detto questo sapete benissimo e mi sbilancio anche qui per l'unesima volta sapete benissimo che io sarei favorevolissimo a dare a Pogba un'altra chance perché praticamente non... cioè la Juve non l'ha mai avuto non l'ha mai avuto e quindi sarebbe la prima chance di fatto per Pogba no per poter dare il proprio apporto alla causa della Juventus apro e chiudo parentesi dalla rabbia erano arrivate le offerte anche a Massimiliano Allegri ho avuto conferma le offerte sono arrivate ma lui ha detto di no quindi capitolo chiuso discorso chiuso si vedrà cosa succederà il prossimo anno per favore non dite che sono adesso sono rilassato perché allegri voi pensate che la mia vita sia commisurata cioè rispondo a quei pochi e anche qua apri chiuso parentesi che la mia vita sia commisurata alla permanenza o meno di Allegri sulla panchina della Juve cioè sarei un pazzo è un po' matto lo sono per tanti versi però c'è da dire che la mia vita e la mia serenità dipende dalla permanenza o meno in panchina di Allegri ragazzi siamo veramente da da ricoveri i manicomi purtroppo non ci sono più io credo che per certa gente andrebbero riaperti e poi chiusi riaperti e poi chiusi però sono le grandi conquiste la chiusura dei manicomi va beh chiuso la parentesi pepe non è una canzone non è pepe si chiama pepe ed è il giocatore di cui ha parlato anche il mio collega Raimondi oggi nella nello spazio mercato di sport mediaset anzi a proposito ringrazio chi mi ha visto ieri su sport mediaset è un esterno può giocare a destra a sinistra classe 97 gioca nel porto è una causa recessoria di 75 milioni a fronte di un valore di 25 30 allora al di là del fatto che è un globo che ha detto la due brasiliano è un globo che ha sparato questa bomba diciamo così questa pseudo notizia onestamente mi sembra che deve pagare 75 milioni per un giocatore pressoché sconosciuto è vero giocare il porto eccetera 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 mi sembra un tantino esagerato secondo me fa parte di uno di quei tanti nomi che si sentiranno pronunciare da qui alla fine della sessione estiva al calcio mercato dopodiché insomma si tireranno come sempre le sonne mentre diverso è il discorso vabbè lasciamo stare chiesa ve l'ho già spiegato ieri quali sono i termini della questione di chiesa ribadisco che a fronte di tutto questo se dovesse arrivare un'offerta importante da newcastle o liverpool o chelsea chiesa la prenderebbe decisamente in considerazione al di là del fatto di volersi giocare quest'annata con trattini trattini tro allegri con puntini puntini tro allegri vediamo no c'è questa questione blaovic blaovic sul quale adesso dovrebbe in teoria potrebbe arrivare a breve un'offerta scritta del celsi come sapete la vici ha ricevuto solo l'offerta scritta al baila juve per la vittima 50 milioni troppo pochi con blaovic si guadagna la juve dal 55 in su dovrebbe a breve raggiungere un'offerta del celsi la cifra non è dato di saperla vediamo come si comporterà perché effettivamente il discorso oilund non è campato per aria effettivamente oilund è un come si dice in questi casi pallino di giuntoli che effettivamente perché dico effettivamente perché l'avete già sentita questa cosa qua ma l'ho verificata l'aveva già voleva già portarlo al napoli e quindi ci sta questa connessione logica ci sta che si possa imbastire non chiaramente una certezza ma un'ipotesi un'ipotesi oilund per la juventus qualora blaovic lasciarsi i bianconeri la chiuso qua per oggi ragazzi iscrivetevi al canale e ci vediamo naturalmente questa sera con il secondo video ciao 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 ciao